Salve, di nuovo qua, dopo molto tempo allora, qualche considerazione il mio canale è un canale completamente privato cioè io non accetto sponsorizzazioni non mi paga nessuno non ho messo neanche le monetizzazioni dei video per questo, quando faccio un video lo faccio perché ho qualcosa di nuovo a pubblicare quindi mettiamo qua allora, questo Hammerless perdonate la mia pronuncia è arrivato un paio di giorni fa lo apro adesso cercando queste plastiche termosaldate come al solito sono più dure di quelle che dovrebbero ecco qua editoriale Olimpia come sappiamo l'editoriale Olimpia non esiste più era una casa editrice fiorentina specializzata in pubblicazioni di armi e caccia tutto ciò che attiene al mondo venatorio e al mondo armiero ed era editrice delle due riviste Diana Caccia e Diana Armi fin dagli anni 60 dal 67 novembre 67 numero 0 di Diana Armi ce l'ho e ecco uno degli scrittori classici degli autori che scrivevano sia sulle riviste sia che pubblicavano libri per conto dell'editoriale Olimpia era appunto Gianro Roberto Lupi che sinceramente non so ancora se sia vivo perché era fin dagli anni 70 anche precedentemente Lupi ha scritto delle opere monumentali fucili da caccia a cani esterni fucili da caccia a cani interni questa è una piccola sintesi delle sue opere che erano veramente gigantesche sull'evoluzione dei fucili da caccia a canna liscia basculanti perché sostanzialmente il suo campo d'azione era questo dalle origini fine giorni nostri passando per l'era classica fine ottocento primi novecento dell'archibuggeria inglese Westry Richards Holland & Holland Rigby Churchill che è meno conosciuto ai più ed altri ecco questo è il volume pagato 6,95 euro compreso la spedizione perché sul sito Amazon ora famoso o Amazon per le polemiche sindacali ci sono ancora i libri dell'editoriale Olimpia Reminders quindi nuovi di Zecca ecco vediamo se c'è la data di pubblicazione infatti il famoso Viale Milton 7 era l'indirizzo finito di stampare l'ottobre 95 a Calenzano editoriale Olimpia Viale Milton 7 Firenze quindi cos'è qui abbiamo un piccolo indice prefazione un celebre ignoto ascendenze francesi ascendenze germaniche bascola armamento percussione le chiusura tutta una deriva tutta come si dice il primo fusile da caccia a cani interni questa è una monografia dedicata all'arma raffigurata che ha una bascola molto strana rispetto alle moderne doppiette elegantissime già pochi anni dopo questo fucile le doppiette assumevano la forma attuale le doppiette inglesi di Churchill di Holland ecco qui esamina qui cita delle alcune bibliografie di un conte ungherese che nel fine del 59 uscì con un libro in cui si parlava di questo fucile le ascendenze francesi parla di progetti precedenti di Dreyse il famoso Dreyse del fucile Adago ecco gli aghi percussori dei precedenti dei precedenti modelli un certo Dovo eccolo qua il fucile di Dovo ecco quindi ecco abbiamo qui guardate qui riporta come era consueto dei fucili dei sirvi dei fucili scusate delle opere di Gianroberto Lupi delle tavole litografiche d'epoca integrate nel testo non sono foto ma sono disegni proprio dell'epoca disegni progettuali dei brevetti dell'epoca o comunque dei progetti delle case costruttrici riportati come all'interno del testo parla ecco poi questo è il primo capitolo di esemplare le reminiscenze prussiane da Dreyse poi qualche modello precedente francese ecco questa è la foto del fucile in questione dal catalogo di un'asta di una famosa casa d'aste questo è un modello antecedente a cani non propriamente interni di un certo oublie ma da qui questo fucile riprende alcune cose tecniche ecco qui sempre questo è l'antecedente francese un le fa show ascendenze germaniche il libro è molto ben illustrato ecco qua riporta non so se la vedete anche qui scusate litografie d'epoca foto dei cataloghi di cataloghi di case d'aste che trattate questi ecco la descrizione della bascula ecco qua e così ecco questo è uno dei primi meccanismi di armamento di questo fucile guardate è ricchissimo di illustrazioni io spero voi non potete vederlo bene anche perché purtroppo non ho una buona risoluzione ecco cercherò di ingrandire e di alzare ecco scusate ecco cerco di aiutarvi a vedere meglio ecco qua il libro è ricco di illustrazioni cerco di inquadrarle davanti alla telecamera ecco purtroppo io non ho un cameraman e sto devo fare da solo ecco qua ho una visione speculare della mia postazione non ho di fronte ecco anche qua riabbassiamo ecco così è meglio non vedete forse in dettaglio ecco guardate qui anche qui bella fotografia per questo ecco asta d'armamento ecco notate moltissime fotografie anche a colori quasi tutte a colori che poi un appendice meccanico che per un libro di un autore famoso che mi è arrivato a meno di 7 euro a casa il giorno dopo che l'ho ordinato di una casa editrice che ormai non esiste più che pubblicava per noi appassionati ecco guardate una galleria di immagini di pubblicità di fabbriche d'armi d'epoca non so quanto centri con questo ma comunque e dicevamo un libro che costato 7 euro di un autore famoso questo qui in specifico parla di uno dei primi fucili doppiette a cani interni sia in modelli antecedenti sia le ispirazioni contemporanee meccanismi di armento e chiusura eccetera di una casa editrice che purtroppo non esiste più travolta dalla globalizzazione dallo scarso interesse purtroppo la casa editrice Olimpia ha fallito aveva un vastissimo catalogo di libri sulle armi sulla caccia oltre a pubblicare queste due riviste e quindi ecco però ecco su questo rivenditore su Amazon diciamolo pure ci sono ancora moltissimi libri dell'Olimpia nuovi approfittatene per chi è interessato cercate perché vedete che cosa si riesce a trovare ancora buona serata